dato che comunque il calcio è anche sui social ormai viviamo in un mondo social noi non potevamo essere da meno e quindi vi proponiamo la top 5 social cambiamo rubrica sia i pro e i contro dei social di questa settimana promettiamo una sigla per ogni rubrica un jingle niente vedremo nelle prossime settimane quindi top social subito cosa strana l'inter ha preso Vidal non so se si è capito non so se siete informati trazzativa lampo ma anche due più o meno come quella di la mezza e subito per ambientarsi Vidal non aveva nulla da fare a casa dopo essere tornato dalla pinettina e ha deciso di seguire la conferenza stampa di Marotta e di Conte quindi Vidal collegato sui social nero-azzurri per seguire la credo sia una diretta una diretta facebook salutiamo Vidal che ci sta seguendo che sicuramente ci sta seguendo durante il pranzo immagino Vidal dopo aver seguito non diremo niente a Conte no, ci mancherebbe non farlo sgamare scusate vi interrompo un attimo la rubrica però ci precisano dalla chat Paolo, Gabrielli non so se lo conoscete non abbiamo il piacere lo aspettavamo oggi ma purtroppo non è riuscito a venire ci precisa che comunque Ranocchia ha già avuto un'esperienza in Inghilterra all'Ul City all'Ul City all'Ul City ma anche alla Sampdoria quindi a Genova all'Ul City ha già dato ha avuto un'esperienza al Bari però devo dire che in coppia con Bonucci non hanno fatto ma anche all'Ul City è andato bene dunque tweet di di Raf con foto profetica di Giampaolo seduto al tavolo tanto per rimanere in tema e senza voler benigrare nessuno sempre Brahim ha un modo di toccare la palla che mi fa bagnare la vagina dice il buon Raf queste sono cose che a noi non possono che fare piacere però Brahim risponde ops con la faccina con una scimmietta è il vietato ai minori Brahim che credo sia molto più contento di noi di ricevere questi commenti ad avercene ad avercene però quello che mi chiedo è se il signor Raf lo ha visto giocare in allenamento probabilmente sì stavo chiedendo proprio questo se è per questi pochi istanti in cui l'abbiamo visto in campo ma credo credo che in realtà dietro lo pseudonimo di Raf se c'è lì qualche parente di Brahim aspettiamo prima di giudicare senza voler giudicare il grandissimo Sandro Piccinini che augura buon campionato a tutti di cui si fa una bellissima imitazione Brivido attenzione ricorda anche il grande Maurizio Mosca di cui si fa una bellissima imitazione sono già arrivati i carabinieri Maria prendi nome e cognome sono già arrivati i carabinieri speriamo non a casa di Piccinini arrivati a questo punto che non era lui che spacciava in piazza Diaz Piccinini che comunque ricorda che sarà presente al club di Sky Sport questa è stata una scelta particolare perché Sky Sport sta praticamente raccogliendo tutto mezza media e infatti subito subito commento a caldo a riformare quasi una coppia che ha fatto sognare milioni di tifosi per le telecronache subito Poppy Bonnici che risponde con un mucchio selvaggio tipica espressione del linguaggio picciniano il clou di giornata comunque alla quale il nostro applauso sono i ragazzi di Corsivi Granata che hanno numero uno ci dicono si genio capolavoro indiscusso mi avviso non so credo avete seguito tutti la vicenda su Arez che si ricollega all'attualità i ragazzi di Corsivi Granata dicono che il reddito dà cittadinanza avete seguito comunque anche in questi anni la polemica sull'reddito di cittadinanza quindi abbiamo scoperto che il reddito in realtà dà cittadinanza quindi non possiamo che essere contenti per un'ironia tagliente che comunque fotografo fotografa la società anche sui temi anche ben più seri dallo you solely allo you soldi come io vi rigiro la domanda della scorsa puntata che avevo preso impreparato il pesame italiano l'avete fatto si vede dal titolo della top flop horror c'è una l'avete fatto un pollo un pollo